La contaminazione di mercurio del Golfo di Trieste deve preoccupare il pesce che mangiamo? Che accumuli determina nel nostro organismo? La risposta arriva da uno studio realizzato dall'Unità Clinico Operativo di Medicina del Lavoro in collaborazione con Asugi e Mercury Lab del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste che ha testato la concentrazione di mercurio nei capelli dei residenti nelle zone costiere del Golfo. Secondo lo studio la concentrazione è al di sotto dei limiti consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le tracce rilevate sono correlate alla quantità di pesce assunto e sono in linea con i dati riportati in altre zone costiere. L'obiettivo era stimare l'esposizione cronica a mercurio nella popolazione in un'area storicamente a rischio. Le nostre acque infatti sono contaminate da mercurio a causa degli scarichi nel fiume Isonzo che per più di 500 anni hanno drenato l'attività estrattiva del cinabro del distretto minerario di Idria nella Slovenia occidentale. Lo studio dell'Università di Trieste ha indagato la concentrazione di mercurio in campioni di capelli prelevati a 301 persone, 119 maschi e 182 femmine. La concentrazione media di mercurio riscontrata è stata di 1,63 mg per chilo, leggermente al di sopra della soglia di 1 mg, raccomandata dall'OMS per donne in gravidanza e bambini, ma molto al di sotto della soglia di tossicità per l'uomo di 10 mg per chilo. Solo due soggetti nell'intero campione hanno superato questo livello di guardia. Il principale fattore di rischio associato all'accumulo del metallo è la quantità di pesce consumato settimanalmente. In particolare il livello di mercurio nei capelli è significativamente superiore in rapporto al consumo di crostacei e molluschi, mentre risulta inferiore in caso di pesce congelato. Tali risultati sono influenzati anche dal fatto che la pesca dei pesci di grossa taglia, come il tonno, è stata bandita in Friuli Venezia Giulia. Questi predatori tendono infatti ad accumulare maggiori quantità di mercurio rispetto a quelli più piccoli, sebbene l'esposizione ambientale a mercurio nei residenti costieri non sia critica e comunque consigliabile alle donne in gravidanza di limitare il consumo di pesce locale ad un solo pasto alla settimana. Il tonno e i pesci provenienti da altri mari possono invece essere mangiati più liberamente.